Superati i 2000 positivi in città, cale la curva ma non i ricoveri, pochi guariti nel capoluogo. Si contano ancora due decessi, sono 2014 per la precisione, i nisseni affetti da Covid in città, numeri mai visti per un totale di 11.072 positivi in tutta la provincia. La curva tende a scendere con numeri più bassi rispetto alle settimane precedenti, ma siamo ancora in piena quarta ondata. Stabile il numero degli ingressi in ospedale, 68 e 9 ricoverati in terapia intensiva, ma si contano ancora due decessi. Secondo il CNR, Calteni 7 ha superato il picco dei contagi, dunque il capoluogo in decrescita insieme ad altre 17 province italiane. Si attende dunque la fase successiva che dovrebbe essere quella della stasi.